real contro bacucu per l'undicesima giornata del girone 1 amatori continua la sfida a distanza tra bacucu e valentia il bacucu potrebbe approfittare del pareggio tra lo scompadre sei uto ma la realistica in caso di vittoria stasera si metterebbe alle spalle parecchie squadre e potrebbe davvero credere nel tricolore la formazione è di casa con questo traversone per la conclusione della rete la realistica immobiliare è in vantaggio marco molti 16 di gioco 1 a 0 lo battuto il bacino palla di pochissimo sul fondo pericolosissimo il bacucu la punizione crovedo ci mettono a pezza pallone che rimane lì rete ha pareggiato il bacucu e francesco pintus l'autore del gol 23 di gioco real 1 bacucu 1 attacca la realistica palla nel mezzo rete pires l'immediata reazione della formazione bianconera pira sul traversone dalla destra la messa in diagonale 2 1 bianconero 24 di gioco finale di primo tempo alla futura real 2 bacucu 1 finale decisamente incendiario adesso si vuole andarsene certo la mette destro ci mette una pezza ma ancora adesso si alla in area per rubio che si gira rubio alla girù 2 a 2 26esimo real 2 bacucu 2 attenzione il bacucu al limite dell'area non riesce però la formazione di diana a sfondare adesso attenzione Ibol porta la terra a rete oltre Ibol 13 dal secondo tempo real 2 bacucu 3 potrebbe essere un gol pesantissimo riprende a piovere nuovamente bolognesi cerchio di centrocampo avversario poi bolognesi ma c'è lo rete bolognesi si è inventato un grandissimo gol 3 a 3 a 3 minuti e mezzo dalla fine però prova a farlo qui rubio si prende un rischio enorme Piras si ruba la palla destro con Ordaz che salva i suoi per Piras limite dell'area conclusione Murata non è finita arriva Monteschi destro palla alta di pochissimo Monteschi ha rischiato di fare un gol capolavoro viene Monteschi che qui però non riesce a sistemare il pallone e poi arriva il triplice visco da parte il direttore di gala Michele Cabras finale alla Futola Sales spettacolare e realistica da cucu 3 a 3